Bisogna fare rapidamente due cose, recuperare denaro andando a controllare se il denaro pubblico è stato ben speso dalle imprese che lavorano al Mose di Venezia. Secondo, riscriveremo il codice degli apparti, una procedura più snella, più trasparenza, possibilità dei cittadini di controllare meglio il denaro pubblico. Le due cose da fare con rapidità.